La sanità retina perde personale e il personale perde diritti. È la funzione pubblica della CGL a tornare sul tema sanità e lo fa adesso con una lettera inviata al vertice dell'Asla Toscana Sud-Est con la quale esprime forte preoccupazione sulla tenuta dei servizi sanitari e sulla capacità di dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei cittadini. Il sindacato infatti ricorda la cronaca e allarmante carenza di personale, peraltro certificata con il bilancio consuntivo 2022 che riporta un taglio di ben 312 teste rispetto al 2021 e che continua nel 2023 con un'altra sforbiciata superiore alle 100 unità. Il sindacato contesta poi le soluzioni adottate dall'azienda sanitaria che sta nominando il sistema introducendo meccanismi retributivi che non assicurano equità e pari dignità tra le diverse professioni. Non si assume, poi aggiunge, ma in compenso la spesa per straordinarie prestazioni aggiuntive lievita. Tra i problemi della sanità toscana e quindi a retina, il segretario provinciale Gian Maria Ciai cita il riconoscimento dei diritti contrattuali, sanciti dal contratto nazionale 2016-2018 solo in presenza di una decisione del magistrato. I tempi di vestizione e svestizione, spiega, sono previsti nel contratto nazionale e sanciti in prima istanza da un accordo regionale del 2017. La CGL aveva ottenuto, attraverso uno specifico accordo aziendale, che la piena applicazione della norma avrebbe avuto inizio con l'entrata in vigore del contratto nel 2018 che prevedeva che i 10 minuti fossero riconosciuti a tutti coloro che sono tenuti ad indossare una divisa da lavoro. Sono passati anni e troviamo sconcertante che l'azienda riconosca questo diritto solo a chi fa causa. Chiediamo dunque chiarezza, ma soprattutto, conclude Ciai, che la direzione risponda per il danno arrecato ai lavoratori e nei confronti di chi, come noi, difende e tutela i diritti di tutti i lavoratori.